Noi ci auguriamo vivamente che qualcuno di loro, anzi tutti noi già li vediamo lì nelle istituzioni e finalmente quando andremo a parlare di problemi che riguardano gli enti locali come per esempio nel mio caso c'è stato il decreto che è ancora in procedimento per il pagamento delle piccole imprese di 40 miliardi di ascoltare i comuni che sono impegnati nel certificare il credito e nelle operazioni per poter pagare le imprese. Qui io naturalmente tristemente ho notato fino al mese scorso, speriamo che non sia così dal mese prossimo, che nei comuni che abbiamo udito non c'era nessuno del movimento che rappresentasse il sud, noi abbiamo ascoltato i nostri rappresentanti, portavoce solo del nord ma non ce n'erano ancora del sud. Mi auguro che cominceremo già dalla Puglia a fare la spartiacqua ma sono sicura perché sono delle persone meravigliose che si sono impegnate già negli anni e sono entrate subito in movimento. Io sono davvero orgoglioso di vedere questi tre ragazzi che si mettono in gioco come hanno fatto da mesi, ormai da anni, per recuperare il senso di comunità. Loro in realtà quello che fanno è prestare un servizio e chiedono ad altri cittadini di rimboccarsi le maniche perché abbiamo capito che delegare gli altri, delegare il sistema dei partiti è stato deleterio per decenni e quindi ci vuole la partecipazione di tutti, ci vuole il coinvolgimento, il mettere in comune quelle che sono le conoscenze, le competenze in modo da poter trovare soluzioni ai problemi senza imporle dall'alto. Ed è straordinario trovare delle tre cittadini normali che domani andranno a fare i consiglieri, anzi speriamo i sindaci in tre comuni della nostra provincia per cambiare, non soltanto per cambiare, per migliorare le cose perché a cambiarle siamo bravi quasi tutti, noi invece le vogliamo proprio migliorare e quindi l'augurio è che queste tre persone e tutte le persone che sono con loro sul territorio riescano veramente a migliorare le istituzioni in modo da avere un benessere anche per i cittadini. È un passaggio di testimone, noi siamo stati i primi che hanno capito il significato di un impegno politico per il Movimento 5 Stelle, voi ora oggi tocca a voi, dopo di voi ce ne saranno altre, l'importante è mantenere il movimento, secondo me credo di poter parlare a nome di tutti, mantenere l'idea del movimento per come è stata finora, cioè questa organizzazione astrutturata, non partitica, assolutamente libera e che fa della coerenza il suo valore e unica arma principale, mantenendo i piedi per terra da cittadini che prestano a tempo determinato parte del loro tempo e della loro vita per questo tipo di impegno, con l'idea e con la perfetta consapevolezza di rimanere e tornare a essere cittadini anche in virtù del limite di mandati che noi tutti ben conosciamo. Grazie, buongiorno a tutti, mi chiamo Mino Petronelli e sono il portavoce del Comune di Alezio. Allora, noi raccogliamo il testimone con orgoglio perché siamo fieri di farne parte. Alezio è un centro particolare, ma non perché ci siano dei problemi, è un centro vicino a una città turistica come Gallipoli, dove si può veramente fare tanto e dove si può iniziare a programmare un futuro migliore per tutti quanti. essendo un comune agro-turistico, di agro c'è la rabbia delle persone che ci vive ad Alezio e di turistico poco e niente. Sarebbe facile farlo perché il turismo potremmo sfruttarlo per ben 4-5 mesi all'anno, andando nelle fiere come il candidato consigliere Tiziano Cataldi ci ricorda spesso, e fare dei pacchetti con anche i paesi stranieri. C'è la possibilità, non viene sfruttata. Perché non viene sfruttata? Perché chi amministra e chi ha governato in questi anni non ha le capacità probabilmente di poter far fare turismo. Ci sono forse 400 posti letto, giusto? Più o meno in Alezio. I russi, c'è stato un workshop, hanno chiesto 2.000 posti letto a settimana. Dunque, se abbiamo la possibilità di poter sviluppare questo progetto, portiamo 2.000 persone alla settimana dalla Russia, riempiono un Boeing, arrivano ad Alezio, ci fanno il giro, li portiamo ad Alezio a vedere gli scavi, li portiamo al museo, li portiamo ad Alizza, li portiamo a Gallipoli, li portiamo in giro, li portiamo a Lecce, li portiamo. E noi in una settimana abbiamo avuto la nostra fetta di turismo a giro. Facciamo 4 mesi all'anno turismo. Noi stiamo lavorando sulle idee, sui progetti, lo so che non riusciremo magari in questa fase a prendere tutto l'elettorato, perché stiamo cercando di fare una campagna elettorale basata sull'idea, non lo so, noi abbiamo proposto tante cose, siamo andati al Comune, abbiamo fatto l'accesso all'atti, abbiamo già visto quali sono i primi problemi, ci siamo accorti per esempio che le scuole pagano il 21% di IVA sulle forniture quando prelegge il 10%, nessuno lo sa a Montaroni. Quindi noi per 10-20 anni abbiamo pagato l'11% di più sulle fatture e appena entriamo, se saremo noi, subito recupereremo questo 11% negli ultimi 5 anni. Cioè la verità è che c'è su questi comuni un livello di competenza bassissimo. Noi abbiamo presentato la lista per primi, il primo giorno dove era possibile presentare, gli altri l'hanno presentata nelle ultime ore, perché? Perché mentre le altre liste nascono la notte, la notte del giorno ultimo per la presentazione, scegliendo i candidati che possono essere più votati, noi abbiamo fatto un processo di certificazione, siamo andati in tribunale, abbiamo richiesto i certificati penali, la nostra lista è venuto il cancelliere in piazza, ha autenticato tutte le nostre liste, la nostra lista è nata due o tre settimane prima, proprio perché c'è un lavoro molto impegnativo, cioè chi vuole fare una lista 5 stelle si deve impegnare, non è l'amico che gira per le case e raccoglie le firme. Noi, i nostri candidati, erano gli stessi già un mese prima della presentazione, perché dovevano essere certificati, quindi dovevano andare tutto a Beppe Grillo che doveva rilasciarci la certificazione, quindi non dovevano essere tesserati, non dovevano avere la fedina penale pulita, quindi non è la stessa cosa, una lista 5 stelle richiede molto molto impegno e anche sacrifici personali, considerando che tutto il lavoro che facciamo è autofinanziato. Questa è la cosa che dobbiamo far capire e dobbiamo anche far capire che chi segue gli interessi di pochi danneggia tutti gli altri. Noi vogliamo portare questa logica, dobbiamo seguire l'interesse di tutti, perché per privilegiare quei pochi ne rimette tutta la società. Questo è il principio che stiamo portando a Monteroni e secondo me non tutti magari ancora sono pronti, ma man mano lo capiranno col tempo, noi continueremo a lavorare anche dopo le elezioni, sulle nostre idee, sui nostri programmi, questo è l'obiettivo. Noi continueremo a lavorare come stiamo facendo adesso anche dopo le elezioni, questo deve essere il principio. Purtroppo la situazione assurda è assai pesante, nel senso è un comune altamente a rischio, inizialmente vi dico in tutta trasparenza e onestà, noi eravamo qua impegnati per le politiche nazionali e mi avevano visato con altri amici che c'era un coordinatore del Fli, ex partito di fini, che voleva mettere sulle mani al Movimento 5 Stelle. Allora lì non abbiamo fatto quel percorso che è da meet up, nel senso da cominciare un percorso, conoscere persone, aggregare, fare delle iniziative e non c'era il tempo e quindi ahimè è gioco forza, non perché noi avessimo il vessallo o la bandiera del Movimento 5 Stelle, però in qualche maniera abbiamo cercato di tutelare in qualche maniera questa situazione. Volevo soltanto ricordare che da vent'anni a questa parte il comune di Lecce diciamo ha accordi con Surbo mai consolidati per quanto riguarda sia un discorso legato alle discariche o per quanto riguarda l'inceneritore della Biosud oppure ultimamente il biogast di l'incontrata Mazzarella o le paleoliche per esempio, hanno accettato addirittura una royalty per mettere su 5 mega di paleoliche, per carità noi non siamo contrari, ci mancherebbe però magari con un programma energetico a livello zonale sarebbe stato per chi produrre 5 mega, a chi servono. E quindi abbiamo queste pale in cambio delle royalty perché poi devono sistemare la piazza, Piazza Caduti al Surbo e quindi utilizzano il territorio per queste tipi di situazioni. Naturalmente Surbo non manca nulla nel senso per quanto riguarda uno sviluppo turistico perché io mi sono fatto un giro dei commercianti, mi sono presentato, li ho conosciuti tutti, pian piano si sono sbottonati, i turisti a Surbo vengono, soltanto che non vengono diciamo guidati perché dicono cosa possiamo vedere qui a Surbo? Boh, non lo sanno, manca proprio un tipo di informazione, infatti abbiamo messo in programma uno sportello di attivazione turistica perché comunque il comune di Surbo si appoggia a un ente non pubblico, diciamo è la Valle della Cuba per quanto riguarda le manifestazioni e quant'altro, però non basta. Abbiamo scoperto che ci sono 9 B&B a Surbo, 9 B&B che comunque lavorano coi 15 giorni perché magari trovano conveniente o perché non trovano posto a Lecce, quindi facilmente raggiungibile. Le possibilità ci sono, piste ciclabili, non veramente siamo attaccati con Borgo Pace, sono forse due o tre chilometri, abbiamo veramente la possibilità a Surbo e Giorgitorio di fare come una specie di satellite turistico per quanto riguarda Lecce. Quando ci tacciano di incompetenza, di bambolotti messi là da Beppe Grillo, come se no non capissimo niente, grandi economisti, grandi statistiche che ci sono stati fino adesso vanno in televisione vantando le loro eccezze e conoscenze, quando poi dimenticano che siamo in una crisi economica probabilmente mai vista prima, con la gente che si dà fuoco in piazza e per arrivare a fare cose di questo tipo si deve essere veramente disperati. Vedere poi, ascoltare questi ragazzi che invece dalle loro competenze, dal loro studio, vogliono anche far partire dei nuovi modelli economici che rispecchino poi alla fine la vocazione di tutti i territori. È un bello schiaffo rispetto a quanto veniamo offesi giornalmente sui media e per questo che, senza offendere i giornalisti che abbiamo invitato e che sono cortesemente venuti, invito magari a riportare anche questo aspetto del movimento, perché è frustrante sentire sempre squalificate le persone che in anni si impegnano e studiano e che lo hanno fatto da diversi anni ormai, come per esempio Antonio Trevisi, il candidato di Monteroni lo certifica, noi non avevamo niente come ancora adesso, perché si parla di diarie ma non dei 40 milioni e passa che abbiamo già lasciato, ma noi abbiamo fatto politica per strada senza soldi rimettendoci, invece di andare a mangiare una pizza noi andavamo a comprare il volantino per cercare di informare proprio a proposito degli inceneritori, dell'inquinamento, della legalità e di tanti altri aspetti che Grillo ci ha aperto a guardare sotto un altro aspetto che noi adesso a Roma ci vengono violentemente, direi almeno per quanto mi riguarda, confermate tutte le ipotesi che fino adesso erano di Beppe Grillo gridate solo dal blog e da noi che qui sul territorio cerchiamo di informare, questa bella sala adesso fatta a conferenza stampa si ritrasforma al luogo di incontro nel pomeriggio in Corte dei Romiti come sempre il sabato pomeriggio. Dove c'è un nucleo di cittadini che sono pronti a metterci la faccia, a sacrificarsi metterci la faccia anche in realtà magari anche difficili, dove succede succede, ci sono realtà dove questo non è successo e ci vorrà più tempo, il Movimento 5 Stelle a livello amministrativo comunale esplosono al nord sostanzialmente, l'anno scorso. Vi ricordo che fino ad oggi, anzi ad oggi, speriamo non a dopodomani, dalla provincia di Napoli in giù, di Giuliano, a parte la Sicilia dove per fortuna a ottobre scorso il Movimento ha fatto un altro boom e quindi abbiamo 15 consiglieri nella regione Sicilia, in tutto il sud non c'è un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle perché è accaduto tutto così velocemente, perché un anno fa, ricordiamolo, sembrano ere geologiche ma un anno fa il Movimento 5 Stelle non esisteva nei sondaggi televisivi, come dice Beppe Grillo eravamo fra gli altri, non esisteva, con Parma, Mira, con quei comuni del centro nord, anzi del nord dove probabilmente per un tessuto sociale e culturale mediamente diverso da quello nostro meridionale, diciamocelo, salvo grande boom siciliano che ha accesso a questi tutti, adesso non voglio fare un discorso, però ci volevo invitare alla riflessione di questo tipo, non siamo noi che siamo in Parlamento da qualche settimana o altre strutture verticiste che o casaleggio per intenderci che dice dobbiamo fare le liste qua e là, dove si coagulano quelle forze di cittadini liberi, consapevoli, che accettano i paletti del Movimento 5 Stelle che sono stringenti, limite dei mandati, non politica vita, non finanziamento pubblico, programmi e contenuti programmatici coerenti dove i valori tutelati sono l'ambiente, la legalità, la trasparenza amministrativa, le soluzioni pragmatiche, il copiare, non inventarsi grandi soluzioni, ma il copiare soluzioni già adottate in Italia e nel mondo che permettono di vivere meglio, cioè di farci diventare un paese più simile a quelli con i quali ci piace confrontarci, il Movimento è questo.